L'anticipo del girone C di promozione mette di fronte due squadre in cerca di rivalsa dopo i rispettivi rovesci patiti nelle gare che le hanno viste coinvolte prima della pausa, ma le aspirazioni complessive sono piuttosto discordanti. Parliamo di San Giovanni Teatino e Virtus Castelfrentano, le due compagini che si affrontano alla cittadella dello sport di San Buceto per riprendere la marcia interrotta, quella della squadra di casa che vuole tornare a dirigersi verso la griglia playoff, la truppa giallorossa che tenta di risalire la china e proiettarsi disperatamente verso la zona salvezza. Sei punti dividono i giallorossi del presidente Gianni Pasquini dalla fatidica soglia e per riuscirvi la dirigenza ha deciso di voltare pagina affidando la guida tecnica ad Andrea Perriotto, chiamato all'impresa nelle ultime cinque gare di campionato. Per il tecnico piemontese si tratta quindi della gara d'esordio sulla panchina castellina. I biancoverdi di casa partono subito all'offensiva e insidiano la porta di Cialdini con la conclusione di Tiberi dal vertice d'area, facile preda dell'estremo castellino che va poi ad intercettare anche il destro in area di Dincecco. Al ventitresimo la Virtus si produce nel primo affondo significativo dalle parti di Alessio Sagazio. Sul piazzato di Valentini la barriera smorza la sfera che arriva dalle parti di Rossi con quest'ultimo che riesce a infilare in fondo al sacco dopo la ribattuta dell'estremo avversario sulla rischiosa deviazione del compagno di squadra Nathan Sagazio, ma il signor Arraiola di Teramo non convalida per una presunta posizione irregolare del numero 9 Castellino. Nove rimostranze giallorosse poco oltre la mezz'ora quando stavolta il fischietto teramano assegna un calcio di rigore alla truppa di mister Perriotto, ravvisando l'intervento falloso di Grassi su Lanzara, ma dopo qualche istante torna sui suoi passi in seguito alla segnalazione di fuorigioco del suo assistente di linea. Il buon momento virtussino del primo parziale si chiude di fatto al 35esimo quando Persichitti prova la conclusione di prima intenzione dalla distanza senza grandi riscontri in termini finalizzativi. La prima frazione si chiude con il ritorno in zona d'attacco della squadra di casa che al 42esimo spedisce sul fondo anche in questo caso con un tentativo dalla distanza. Al riavvio dei giochi la gara si sblocca. Sono trascorsi quattro minuti infatti quando i teatini passano a condurre con Nathan Sagazio che infila alle spalle di Cialdini sfruttando l'invito dalla sinistra di Dincecco, superando poi l'estremo rivale in uscita con una beffarda palombella che fa gioire la tifoseria bianco-verde. La reazione Castellina non tarda a manifestarsi in più occasioni. Al quindicesimo Fragassi scambia con Valentini e prova la soluzione a lunga gittata, respinta in qualche modo dall'estremo avversario che un minuto dopo osserva con una certa apprensione il sinistro dal limite dello stesso Fragassi, stavolta fuori misura. Al ventesimo assist di Valentini dalla bandierina per il solito Fragassi che stavolta prova a svettare e ad indirizzare la sfera nello specchio della porta ma le intenzioni si scontrano con la dura realtà. Quattro minuti dopo il neo entrato Simone Tucci tenta la soluzione da fermo. posizione defilata ma traiettoria insidiosa per il portiere di casa costretto a smanacciare la sfera per allontanarla dalla zona a rischio. La squadra di casa torna a guadagnare metri in avanti e dopo l'uscita con i pugni di Cialdini che allontana un temibile spiovente da fermo si registra il tentativo aereo di schiazza che spedisce sul fondo provando a sfruttare un tiro dalla bandierina. Le speranze della Virtus Castelfrentano di rimettere in sesto il risultato subiscono un contraccolpo ulteriore in seguito al cartellino rosso rimediato da Fragassi sanzionato per proteste. I ragazzi di mister Disidoro cercano a questo punto di capitalizzare la situazione a loro favorevole con un paio di tentativi nelle fasi declinanti della sfida ma il risultato non subirà ulteriori variazioni e in questo caso ai biancoverdi può andar bene anche il detto nessuna nuova buona nuova visto che il risultato favorevole è già acquisito e i tre punti rimangono alla cittadella dello sport. Tiziano Disidoro è il tecnico del San Giovanni Teatino una buona vittoria anche se di misura però vi proietta di nuovo nelle parti alte della classifica. Sì vabbè al di là della classifica che era importante vincere perché abbiamo un tour di partite che verranno abbastanza difficile quindi era importante oggi fare il risultato. Una partita tosta maschia dove l'avversario non era mai d'uomo ci hanno pressato sempre sono stati bravi noi nelle poche occasioni che abbiamo siamo riusciti a sbloccarla soffrendo perché queste partite si soffre loro che vengono da un periodo o no col cambio di allenatore avevano entusiasmo voglia di soffrire forse anche più di noi all'inizio nel primo tempo poi nel secondo tempo ci siamo un pochino svegliati però devo fare i complimenti anche a questo castro del Frentano perché secondo me non merita la classifica che ha in questo momento. Come mai mi sarete subito un po' la pressione del primo tempo del castro del Frentano? Le motivazioni io penso siano queste oggi secondo me la mia squadra era un po' noi soffriamo con le squadre che ti fanno giocare poco siamo una squadra che ha bisogno di noi possiamo vincere con chiunque ma possiamo perdere anche con l'ultimo in classifica una dimostrazione è proprio oggi che con una squadra che ci ha messi lì alle corde ci ha fatto soffrire parecchio non riuscivamo più a trovare il bando della matassa abbiamo poi anche qualche acciaco però ci doveva fare un mia colpa e cercare la settimana prossima di affrontare il miglianico Lanciano perché sicuramente non sarà il castro del Frentano con un piglio diverso. Sì mister guardando un po' le giornate passate vedo un San Giovanni Tiatino soffrire un po' più fuori casa invece dentro casa avete le vostre vittorie. Sì vabbè oggi abbiamo vinto ma ci poteva uscire anche un pareggio perché abbiamo avuto pochissime occasioni è chiaro che le partite si vivono sugli episodi oggi c'è andata bene domenica scorsa abbiamo fatto una buona prestazione dove però non abbiamo raccolto niente il calcio è particolare dove bisogna saper soffrire noi oggi abbiamo sofferto soffrire in momenti difficili e poi siamo venuti fuori. Con che impiglio affronterete la prossima partita come hai detto tu con il miglianico Lanciano? Sì con lo stesso piglio noi siamo una squadra che gioca partita dopo partita non guardiamo la classifica non so nemmeno che faranno le altre oggi e sabato ma non la guardiamo assolutamente noi cerchiamo di giocare partita dopo partita chiunque incontriamo di dare il massimo che le possiamo dare e poi alla fine traiamo le conclusioni insomma le devo dire bravi dei miei ragazzi perché si sono impegnati tanto hanno lottato e anche in difficoltà oggi e quindi bravi insomma. Per la Virtus Castelfrentano abbiamo il presidente Gianni Pasquini ho visto una squadra oggi completamente diversa buona, con grinta i giocatori e i ragazzi hanno messo del tutto però forse hanno incontrato un buon San Giovanni Riadino Ciao, buonasera a tutti sì sicuramente è stata fatta una buona gara a parte dei ragazzi c'è stata una buona reazione dopo quella decave della settimana scorsa quindi sotto questo punto di vista siamo soddisfatti sapevamo che incontravamo una squadra forte che in casa difficilmente lascia i punti però insomma dovevamo in qualche modo cercare di portare a casa qualcosa anche perché la salvezza si fa sempre più difficile e abbiamo bisogno assolutamente di fare i punti e purtroppo oggi è andata così Possiamo dire che oggi si è vista anche un po' la mano del nuovo mister? La squadra ha fatto insomma quello che gli ha chiesto di fare il mister naturalmente oggi ho visto una squadra comunque quadrata che ha cercato in ogni modo di stare attenti di non subire gli avversari a mio avviso è stata fatta comunque una buona gara sono tanti punti di vista e purtroppo non parlo mai dei direttori di gara ma sicuramente oggi poi non so rivedremo le immagini stasera domani appena usciranno insomma e diciamo che sono stati annullati un gol, una rete che a me era sembrato regolare però poi lo andremo a rivedere soprattutto un calcio di rigore che l'albitro aveva fischiato e che poi invece il guardaline ha in qualche modo annullato però non ho saputo le spiegazioni del perché e quindi anche un po' queste situazioni insomma che non ci vengono a favore in questo momento e portano comunque a non fare punti Il mister Tiziano Di Sidoro ha dichiarato che ha visto un buon Castelfrentano e non meritate la classifica che occupate Diciamoci la verità questa è una cosa che durante tutta la stagione abbiamo sentito dire più volte e purtroppo però la classifica poi parla chiaro ed è questo è vero che nell'arco della stagione abbiamo fatto sempre buone gare a parte insomma le ultime due prima di questa in cui veramente la squadra è sembrata irriconoscibile purtroppo è così dobbiamo in qualche modo cercare di invertire questa tendenza dobbiamo in qualche modo cercare comunque di fare punti rimanere attaccati a chi ci procede in classifica e cercare in qualche modo di rientrare perché sono convinto che le qualità e le capacità per fare ci sono però è chiaro che in qualche modo dovremmo fare punti e soprattutto paghiamo tanto ingenuità nell'arco della stagione anche oggi tutto sommato comunque abbiamo preso un gol che secondo me con un po' di più attenzione si poteva evitare e poi bisogna sempre cercare comunque di restare in partita fino alla fine così come oggi voglio essere fiducioso anche se in questo momento è davvero difficile commentare un'altra sconfitta ma voglio essere fiducioso voglio continuare a credere in questa squadra sperando che la prossima settimana riusciamo finalmente a portare a casa tre punti e cercare fino all'ultimo momento fino all'ultimo minuto del campionato di giocarci per rientrare nei pre-out di giocarci per rientrare nei pre-outi